confronto anche con voi. Bene, detto questo, rimanete con noi, un piccolissimo stacchetto pubblicitario e poi torniamo subito in diretta, a fra pochissimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Avete capito? Quando voi fate 50 euro di benzina, 15 vanno alla benzina e al benzinaio e 35 vanno allo Stato, tra IVA e le famose accise sulla benzina, delle tazze in alcuni casi vecchissime, certe abbiamo da quando hanno inventato il motore a scoppio, 35 euro su 50 vanno allo Stato italiano. Ed è una vergogna. E non solo noi chiediamo che non aumentino le accise sulla benzina, come è previsto dalla manovra di questo governo che se non riesce a trovare i soldi per disinnescare le clausole di salvaguardia farà aumentare l'IVA e le accise sulla benzina. Noi pretendiamo che le accise vengano progressivamente abolite, perché è uno scandalo che le tasse dello Stato italiano compromettano così la nostra economia. Quando io faccio 50 euro di benzina, il grosso deve finire nella mia macchina, non in quella dello Stato. Onorevole Bernardo, questo è un video del 2019, però è ancora più attuale, nel senso che lì parlava di 50 euro, adesso mi sa che molto di meno di 15 euro finiscono in benzina, il resto sono tutte tasse. Ovviamente noi abbiamo messo in evidenza come redazione già il primo di gennaio questo regalo che ci ha fatto il governo, poi questa cosa è un po' montata, ce la voglio un po' spiegare dal suo punto di vista, perché c'è un po' di confusione, anche all'interno del governo alcuni stanno, la Meloni oggi ha messo in evidenza questa cosa, che all'interno del governo c'è qualcuno che vuole cavalcare un po' l'onda del consenso contro questa cosa, spieghiamolo, la primo gennaio è 100% di accise sul costo della benzina, qui la benzina al 31 di gennaio costava 1,69 euro diesel per vita, adesso è passata quasi a 1,90 euro. Ricordando che quello è un video che il Presidente del Consiglio, Giorgio Meloni, ha diramato nel 2018, continuiamo a essere dell'avviso che progressivamente, come diceva Giorgio Meloni in quel video, progressivamente queste accise devono essere ridotte ai minimi termini, perché all'interno del prezzo dei carburanti ci sono ancora accise che riguardano ancora il terremoto del Belice, oppure le azioni militari di alcuni decenni fa, per dire, tutte cose sicuramente che devono essere cancellate. Va detto che questo governo si è insediato a tempi di record e a tempi di record è riuscito ad approvare una manovra finanziaria per dare delle risposte immediate alle esigenze dei cittadini. Prima di tutto è la questione del taglio del costo delle bollette, che come ricorderemo energetiche aveva raggiunto dei livelli insostenibili sia per le imprese che per le famiglie. Iniziando a dare queste risposte immediate bisogna cominciare a eliminare gli sprechi e eliminare anche queste assurdità che sono state tramandate di governo in governo negli ultimi 20 o 30 anni. Quindi rimane fermo l'impegno della maggioranza che governa questo Paese e del Presidente del Consiglio a fare in modo che gradualmente si possa arrivare a eliminare tutte quelle componenti del costo dei carburanti che non riguardano il costo stesso, ma riguardano solamente delle accise che periodicamente sono state aggiunte l'una all'altra e che hanno portato a dei costi dei carburanti che sono assolutamente insostenibili. Questo è quello che deve essere fatto, l'impegno che sia assunto questo governo e questo, io ritengo che già dalla prossima manovra finanziaria ci saranno tagli consistenti alle accise e soprattutto si darà ancora seguito a quello che già è stato iniziato durante questa manovra finanziaria da parte di questo governo e cioè tagliare gli sprechi, iniziando dallo spreco del reddito di stainanza che noi chiamiamo paghetta di Stato e una serie di altri sprechi come quello di andare a finanziare con risorse pubbliche quello scandaloso affare dell'accoglienza, quindi la questione legata a tutti i soldi che vengono date alle cooperative più o meno rosse per finanziare il business dell'accoglienza. Però mi sa che fin quando la Meloni continuerà un po' a essere deferente in maniera così evidente nei confronti dell'Europa sarà un po' difficile trovare una soluzione. Però arriviamo anche su questo. Milanato, però qualcuno ha detto, ha scritto, anche la Meloni si è giustificata, c'è nel programma di Fratelli d'Italia l'abolizione delle accise nella campagna elettorale, però la postilla, ha scritto in piccolo, dice sì però se ci sono maggiori entrate, vabbè è un escamotaggio perché poi alla fine la gente purtroppo si sa, l'elettore si ricorda solo quello che vuole. Ha specificato la riduzione graduale, l'ha detto anche prima nel giro, come ricorderete, quindi questo è quanto. Altrimenti se si tagliano tutto da un coipo, tutte le accise, significa che non ci sono più le risorse per poter finanziare tutta una serie di iniziative che vanno a vantaggio delle imprese e delle famiglie in difficoltà. Scusa regia, rimettimi il messaggio un attimo che non l'ho letto, sono profondamente deluso da Udine, dal governo che ho votato, succube dell'Unione Europea, altro che deriva fascista. Ecco qua addirittura si parla di estremismo. Milanato, però voi di Forza Italia, siccome siete, no fammi finire perché sono poi, voi che siete sotto nei sondaggi, Forza Italia insomma sta perdendo nei sondaggi, ci vogliono fare, merito dalla Rozzulli, non lo so di Berlusconi, decidete voi, però di fatto questo, avete preso la palla al balzo, adesso recuperiamo un po' di consenso dicendo no, noi vogliamo togliere la Cisa. Allora, intanto rispondo nei sondaggi. Nei sondaggi siamo arrivati alla pari di un partito che un anno fa aveva il 32%, giusto per rispondere che siamo sotto. Nei momenti decisivi Forza Italia fa il suo dovere ed è sempre un partito decisivo. La situazione è molto complicata perché sicuramente la Meloni e tutto il centro-destra si è ritrovato in una situazione dopo 5 anni di 5 stelle con dei conti profondamente in rosso. Il nostro conduttore qui presente da ottobre continua a dirmi ogni volta ma voi siete sotto la Meloni, voi siete sotto la Meloni. La Meloni non ha ascoltato Berlusconi, l'ha tenuto da parte e i risultati si vedono perché è stata una manovra con tante retromarce e una manovra con delle scelte molto discutibili. Forza Italia appoggerà in pieno questo governo perché non è questa la manovra decisiva dove si vede l'impronta del centro-destra, sarà quella fatta fra un anno e in quest'anno avremo il tempo giustamente di tagliare di specchi, giustamente di togliere quei finanziamenti scandalosi con l'immigrazione fatta al PD e suma oro in segna e sarà un anno in cui riusciremo a sistemare l'Italia e sicuramente anche le accise verranno tolte. Dopo io non avrei tolto i 18 centesimi, non avrei aumentato lo stipendio di statali per guadagnarsi un po' il consenso degli statali, avrei fatto delle piccole variazioni. Consentemi di dire che la campagna elettorale è finita, va bene che ci sono regionali in Lazio e in Lombardia, quindi dovete continuare a creare consenso. E c'è un altro aspetto, lasci finire, è vero che c'è stato l'aumento delle accise, ma è vero che con l'aumento di 600 euro delle pensioni minime abbiamo tutelato le persone minime, è vero che le persone che guadagnano poco, che poi anche da vedere se fanno più evasione, ma questo è un altro discorso, sono state tutelate dal governo, quindi in qualche modo è stato colpito la classe che ha più disponibilità, mentre coloro i ceti più bassi sono state tutelate, perché anche il togliere il 3% del cuno fiscale permette alle persone di avere quelle 50-60 euro in più al mese, che permette di far fronte a certi aumenti. Stessa cosa per le pensioni sociali. Però ribadisco quello che ho detto prima Marco, va bene che adesso ci sono le regionali, quindi magari questa manovra può essere un po' mediata, anche se molto differente rispetto ai contenuti della campagna elettorale, però ricordatevi che faremo, diremo, toglieremo, miglioreremo, efficienteremo, non è il verbo giusto, efficientate, adesso è il momento. Non è questa la manovra giusta. Davide, volevo condividere con te uno scenario possibile, una famiglia tipo 1200-1300 euro ciascuno, due persone che lavorano, che si trovano costrette dall'oggi a domani a spendere 70-80 euro in più dal 1 gennaio di gasolio, supponendo che queste persone facciano pennolarismo, siano costrette a spendere di più sulla bolletta, ma che nonostante l'aumento del gas non sia più consistente, come mi sono fatto mandare da una società specializzata in vendita di energia elettrica, l'andamento del costo dell'energia elettrica è in calo, ma la bolletta non rimane, il costo del megawattora, però nonostante questo la bolletta è in aumento e sale. Gli interessi che hanno solo famiglie che hanno visto aumentare la propria rata del mutuo del 30-35%, quindi immaginiamoci 7-800 euro che diventano 1000. Ecco, quindi di fronte a questo scenario che magari dire ti tolgo il reddito di cittadinanza, che influenza può avere rispetto ad una famiglia che vuole vivere la propria vita. Ti aumento la pensione minima per gli over 75, ma ti aumento la benzina, ti creo tutta una serie di disagi, io adesso invito a fare una riflessione, Davide, condividiamo questo disagio che ha tutta la mia solidarietà nei confronti di queste persone. Davide. Beh, allora innanzitutto io condivido quello che è appena stato detto, non si può pretendere che un governo che si insedia in seguito a una crisi nella fase finale dell'anno e deve fare una legge finanziaria in grande velocità possa risolvere d'emblè, così di colpo, con un gioco di mano, dei problemi strutturali che hanno a che fare anche con una congiuntura storica del tutto particolare. C'è una guerra in corso in questo momento che incide notevolmente sul prezzo delle materie prime e quindi delle risorse energetiche. C'è una situazione debitoria del nostro Stato che si protrae ormai da tempo immemore e c'è anche un potere sovranazionale che ormai è diventato iperinvasivo nei confronti dei singoli Stati nazionali. La libertà di manovra di un esecutivo appena insediato è estremamente stretta. Effettivamente bisogna avere un po' di pazienza e io non sono certo un sostenitore del centrodestra come non lo ero del centrodestra. No, mi stavo preoccupando. No, però bisogna avere, però invito tutti a avere onestà intellettuale. Siamo cittadini e la Repubblica è di tutti. Un governo ha cinque anni davanti. Devono esserci motivi particolarmente gravi per arrivare a una crisi. Veniamo da cinque anni di quegli ultimi tre particolarmente drammatici. Se noi non cerchiamo di stare uniti anche nella diversità di idee è inevitabile andare a un nuovo commissariamento. L'ultima cosa che io vorrei sarebbe che di nuovo ci venisse imposto un premier in forma di commissario dall'esterno facendo tornare ancora il governo, magari il PD, che dopo undici anni di governo nel quale non meritava di stare dal punto di vista delle elezioni, del consenso elettorale, dovrebbe starsi almeno altri undici anni fuori dal governo perché tra l'altro distruggere è più facile che costruire. I disastri di questi undici anni sono sotto gli occhi di tutti e chiudendo tutta la situazione va verso la limitazione ulteriore delle libertà di manovra perché c'è la logica usuraia debitoria. Il PNRR serve per creare nuovo debito. Il MES si entra in vigore, se viene ratificato, è per sottoporre ancora a vincoli lo Stato che alla fine si ritrova a essere che cosa? Una serie di tecnocrati che devono applicare necessariamente l'agenda che gli viene dettata dall'estero. Ecco, un atto di presa di coscienza da parte di tutti i cittadini, che non è una questione di partiti ma è una questione di civiltà, noi dobbiamo renderci conto che in questo momento c'è un potere sovranazionale che vuole sottomettere tutti gli Stati. Non a caso, la cosa più importante del mese di gennaio è dal 16 al 20 di gennaio la sessione annuale del World Economic Forum a Davos. Vi prego di seguirla perché è lì che si prendono le decisioni, non ormai nei Parlamenti. Sì, però è anche vero Davide che tu hai detto una cosa giusta, connevisibile, però sono passati già quattro mesi, quasi, e quanto tempo c'è bisogno? Io non posso credere che chi è in Parlamento le cose non le sappia o non sappia come funzionano. Parliamo di gente come quelli del 5 Stelle che prima facevano i salumieri, con tutto il rispetto con i salumieri, si sono trovati magari presidenti di commissione, eccetera, eccetera. Qui parliamo di gente che comunque mastica la politica da anni. Quanto tempo vogliamo dargli ancora? Allora diamogli quest'anno. Quest'anno è l'anno in cui si vede se c'è un cambio di passo, se effettivamente l'avvicendamento rispetto alle forze politiche che erano al governo prima può portare un cambio di direzione. Diciamo che il governo comincia a lavorare seriamente da adesso. Fino a questo momento ha dovuto fare in fretta e furia e di fatti la legge di bilancio che è stata approvata è in gran parte ereditata dal governo Draghi. A gran poco hanno potuto fare, per cui quando vedo chi dice sono deluso dal governo che ho votato, io che non lo ho votato, dico che bisogna avere pazienza. Vediamo che succede. Visto che hai citato, Davide, quella manovra di governo, l'eredità, evidentemente, ricordiamoci però, ecco, ti ricordo che molti partiti hanno sfruttato la famosa agenda Draghi, ti ricordi il campanile elettorale sembrava il mantra, noi l'agenda Draghi vogliamo continuare, eccetera. Evidentemente però le cose non sono così palesi come sembra. Però ecco, dottoressa Braschi, innanzitutto grazie, perché insomma lei svolge l'attività lavorativa a Firenze, quindi grazie di aver accettato il mio invito di venire qui in trasmissione da Rovigo. Ecco, analizziamo questa manovra di bilancio, perché così, come accenno, ricordiamoci il discorso dei post, le retromarce che ha fatto il governo, c'è le liti che hanno, diciamo, sono generate, pur avendo la maggioranza, pur avendo una stramaggioranza, sia la Camera e il Senato, dover imporre la fiducia. Quindi abbiamo assistito comunque a un siparietto che è un, diciamo, un governo coeso, come ci hanno, ci vogliono far credere, come potrebbe essere o come è, alla fine però nello scontro del dammi questo che mi serve per, no, tu me lo dai, no, io ti do questo, eccetera, complice anche i palettoni, le feste o i disagi del tempo mite o del freddo che non c'era, comunque gli italiani l'hanno un po' subito. Quindi cerchiamo di analizzare un po' assieme questa manovra, cioè, ecco, lei che è commercialista, come la vede? Beh, si tratta di una manovra abbastanza ampia, sono oltre 900 commi, che insomma, voglio dire, sono abbastanza dettagliati, hanno cercato di attenzionare sia la parte fiscale che la parte del lavoro, però ci sono anche degli elementi che fino ad ora non sono venuti fuori e secondo me invece possono suscitare un motivo di interesse. Per esempio, come commercialisti, noi aspettavamo da un po' di tempo, dopo due anni di pandemia che avevano visto bloccati tutti quelli che erano gli elementi di riscossione, poi all'improvviso molti miei colleghi si sono ritrovati dall'inizio di quest'anno a gestire una quantità incredibile di avvisi bonari, cioè la maggior parte degli imprenditori, degli autonomi, sanno di che cosa parlo. Sono comunicazioni che l'Agenzia delle Entrate invia e che aveva tenuti fermi per circa due anni per la pandemia e li ha inviati in forma esponenziale. Quindi abbiamo trovato, avevamo molti... La faccia, dottoressa, la faccia della pace fiscale e del dialogo con l'Agenzia delle Entrate. Si sono trovati molti imprenditori, molti lavoratori autonomi, ma anche contribuenti normali, cittadini, si sono trovati ad aver interrotto, giustificati perché erano interruzioni consentite, il pagamento delle accise, delle imposte e di qualsiasi altra cosa, le hanno trovate improvvisamente per mettersi, diciamo così, in regola, uno se le doveva pagare tutte in una volta. Quindi in questa manovra io devo dire che con tutte le critiche che possono essere fatte c'è almeno la tregua fiscale che per noi era fondamentale. La tregua fiscale è uno strumento che consente innanzitutto di limitare le sanzioni che in alcuni casi, parlo dell'Inps, arrivano addirittura al 60%, cioè pagare dei contributi col 60% in più significa un impegno estremamente gravoso, soprattutto per aziende che hanno una grande quantità di lavoratori e nello stesso tempo tu puoi rateizzarle. Ora, indubbiamente poteva essere fatto di più, sì, sì, poteva essere fatto di più, però insomma questo è un elemento che a mio modestissimo avviso è un elemento importante da rilevare. Quindi secondo lei dottoressa ci avviamo verso la, diciamo, questa forma di, cioè in campagna elettorale mi ricordo Salvini, diciamo, beh insomma usare molto bene la comunicazione, Salvini ha detto la pace fiscale, la pace fiscale, cartelle sattoriali 2000-1500, però ecco diciamo per dovere di cronaca che non è come, cioè poi alla fine è stata approvata un'altra cosa. Sì, sì, cioè è più modesta, è più modesta indubbiamente rispetto a quello che era stato presentato, però l'importante è che ci sia. Ecco, io ero sinceramente abbastanza delusa dal fatto che a fronte di una pace fiscale che c'era stata nel 2018-2019 e che per colpa della pandemia non era stata portata avanti, perché è evidente insomma che molti delle persone che ci seguono, insomma molti dei contribuenti avevano incontrato, avevano avuto la disavventura di incontrare le cartelle sattoriali, avevano cercato di risolvere la situazione, poi improvvisamente la pandemia è bloccata e le cose non sono state più risolte. In questo caso è possibile, anche se, ripeto, avremmo voluto interventi più coraggiosi, è possibile comunque cominciare a non avere i conti correnti bloccati, perché eravamo arrivati a un punto in cui la cosa, il limite qual è? Il limite è che purtroppo negli interventi della tregua fiscale alcuni comuni, che sono i responsabili per esempio del pagamento dell'Imu, della riscossione dell'Imu, della Tari e di altre accise che di fatto ci bloccano, alcuni comuni possono decidere di non accogliere questa tregua fiscale. Questo sarebbe stato un intervento un po' più coraggioso. Da un punto di vista del lavoro, invece, a fronte di interventi che io sinceramente condivido, come per esempio la possibilità di avere un esonero dei contributi se assumi delle persone, diciamo, magari anche con reddito di cittadinanza, il limite, il vincolo maggiore che è stato messo per esempio alle pensioni per l'opzione donna, cioè mentre prima con l'opzione donna tu potevi accedervi le donne appunto con 35 anni di contributi senza nessun altro vincolo, qui al contrario il vincolo è legato al fatto che tu devi avere per forza o un, diciamo così, devi essere un caregiver, cioè devi avere un familiare da accudire o comunque deve avere altri limiti che prima invece non c'erano. Questo è un, è un, è un, diciamo così, un paletto che forse poteva essere... Bene, bene, approfondiremo ancora, dottoressa, perché vedo, vedo, perché argomenti sono interessanti, dobbiamo parlare del post, là, che c'è stato un siparetto veramente poco edificante, però vedo collegato, sasa, ecco qua, sasa, fai vedere bene la maglietta qua, fammi vedere bene la maglietta, mi prendo la mia, la mia libertà, dietro, voglio vedere la maglietta dietro, fammi vedere dietro, ecco qua, ecco qua, ecco io intanto siamo in fascia non protetta, possiamo dirlo, fottuto dallo Stato, cioè quindi carissimo, sasa, un caro saluto, un caro abbraccio, vedo anche i tuoi amici dietro che ti seguono, mi fa molto piacere, ti vedo, io ti seguo, ciao, ciao a tutti, ti seguo sempre ovviamente, ciao a tutti, ciao a tutti, ti seguo sempre con estremo interesse nel tuo girovagare per la Sardegna, dove sei adesso di bello? A Nuoro. Ah, benissimo, ecco facciamo una sintesi, perché sono passati, l'ultimo appuntamento era a metà dicembre, abbiamo, ci siamo ripromessi di vederci dopo le feste, sasa, facciamo un po' una sintesi, perché stai girando, così aggiorniamo ancora i nostri amici a casa, che cosa le tue nuove iniziative e la tua sensazione di questi ultimi 15-20 giorni? Allora, io sono partito per una grande protesta, sia personale che per tutti noi delle partite IVA, ma ho riscontrato molte altre proteste, tra cui mi sono unito e girando mi sono accorto che però manca qualcosa, l'unione, la fratellanza tra le persone, c'è stato un distacco nel genere umano e io facendo sto giro mi sto accorgendo che sto ritornando a riportarla questa cosa qua, sì qua ho dormito in una chiesa che non avevo trovato posto a dormire, mi sono accampato sotto questa tettoia di una chiesa, San Nicola, mi sembra che qualcuno mi ha detto che era San Nicola, e poi invece avevo rotto la bicicletta e l'ammortizzatore mi toccava la ruota e quindi ho dovuto smontarle e bloccare l'ammortizzatore, perché ci sono incidenti di percorso che capitano e quindi ci sta. Ecco, perché ricordiamo Sasa che tu stai girando in bicicletta, ogni giorno fai determinati chilometri, poi chiedi, facciamo un po' un aggiornamento, quindi tu chiedi a Silo... Sì, qui era il periodo di Natale, infatti vedete il berretto, io non ho voluto disturbare nessuno, anche se mi avevano ospitato e qui ho Stefano a fianco a Cagliari, che io però gli ho detto che non ero ancora arrivato, invece in realtà lo ero, ma non volevo disturbare visto che il Natale si passa con i parenti, e io mi sono isolato perché mi sentivo a disagio e non volevo impegnare questa cosa qua. Quindi dopo, il giorno dopo mi sono fatto sentire da Stefano, dove poi mi sono trattenuto e abbiamo fatto il Capodanno insieme in una sala fantastica. qui invece, per sdebitarmi anche dell'ospitalità cucino, mi è capitato anche di aggiustare un giardino nell'ultimo percorso che ho fatto. Poi dovevo arrivare ad Olbia. Ah, questo qua, Google Map mi ha indicato questa strada e sono arrivato... anche sterrato. Poi sotto Natale ho fatto una letterina a Babbo Natale, non so se la leggete, anzi se riesci tu a leggerla mi fa un piacere. Eh, perché si legge male però, effettivamente non riesco. Allora aspetta che la leggo io. Eh, sì, leggi da te. Io da Babbo Natale cosa vorrei? Un senso di umanità, un senso di libertà, un senso di vivere, tutto deve avere un senso, se no che ci stiamo a fare qui? Mantenere il nostro governo? Ecco, perché poi in effetti quello che dici tu... Aspetta ancora la risposta da Babbo Natale. Ecco, la Babbo Natale ti scriverà però ci possiamo dire anche noi che in effetti il senso è che i governanti, io ti rispondo io, ti dico che i governanti ci vogliono divisi, ci vogliono uno contro l'altro, ci vogliono così, così siamo più vulnerabili e loro riescono a imporci le loro cose, alla fine che non sono nel nostro vantaggio, sebbene la politica dovrebbe essere a vantaggio del popolo, invece evidentemente non lo è, e alla fine noi facciamo lite fra di noi, questo è la cosa, quello che tu hai centrato all'inizio dell'intervento. E quindi ci troviamo a, diciamo, a beccarci fra di noi, ricordiamoci quanta gente ha lificato per il vaccino a favore o contrari, amici che non si sono più guardati, fratelli che... Anche parenti, anche parenti. Quindi dobbiamo tornare, mi piace molto quello che hai detto, al senso di umanità. Ma tu, girando in bicicletta, qual è l'obiettivo che vuoi raggiungere, Sasan? Ma io, l'obiettivo mio era ritrovare noi stessi, ritornare ad abbracciarsi, a volersi bene e unirsi, perché è importante, perché dividendoci solo ci facciamo solo del male. Io, ultimamente, perché dico il viaggio è lunghissimo, io quando arriverò a Olbia e mi imbarcherò per il continente, come dicono in Sardegna, che sarebbe la terraferma, dico che sono solo all'inizio del mio viaggio, lasciando la Sardegna, perché veramente è solo l'inizio. Io so che qui mi hanno amato e io ho amato loro, anzi, sono stato accolto in una maniera bestiale, perché veramente disumana, perché non so neanche come spiegarla. Però è stato bellissimo, quasi non me ne andrei, ma devo andare via. Io adesso qua, in questa sala, che Maurizio ci ha concesso di entrare in visione, del suo locale, il Barone, e niente, qui mi ha raggiunto un gruppetto da Cagliari, a Nuoro, pensa, e da Sassari, e in pratica dal nord a sud, per unire anche la Sardegna. Mi piacerebbe far parlare Stefano, se possibile, se volete. Sì, sì, facciamo parlare Stefano brevemente. Stefano, vieni qua, dove sei Stefano? Stefano, non essere timido, sentiamo. Vieni qua vicino, vieni vicino a noi, dai, vieni. Ah no, cosa vuole metterti gli occhi al mano? Ciao, buonasera. Ciao, buonasera, dimmi pure Stefano. Allora, io sono Stefano, faccio parte di uno dei tanti gruppi della Resistenza in Sardegna, che si chiama I Sweepius non si toccanta, credo che abbiate capito, vero? Voi erano la traduzione? Assolutamente, sì, siamo un po' di gloppi. Ah, bravo. I bambini non si toccano, i bambini non si toccano perché abbiamo creato questo nome, perché quando siamo nati praticamente il nostro fondatore era in un gruppo che era i bambini contro la dittatura sanitaria, si combatteva contro l'obbligo di quei 12 vaccini famosi. Sì, sì. Noi stiamo combattendo come gli altri gruppi dall'inizio, abbiamo conosciuto Sasa e abbiamo capito che stiamo facendo la stessa lotta, perché stiamo combattendo contro quello che è la quarta rivoluzione industriale di Klaus Schwab, il transumanesimo. Questi ci vogliono distruggere, ci vogliono portare in schiavitù, ci vogliono portare all'identità digitale, il controllo totale, ci vogliono togliere ogni libertà. E lo stanno facendo sulla base di una fantomatica pandemia. Quindi questa... Sì, insomma, questo più o meno... Ecco, guarda qua. Ciao Sasa, sono Simone Sollier di Bardonecchia. Non mollare. Non mollare. Ecco, c'è anche un messaggio dedicato. Comunque Stefano, il messaggio è molto chiaro e sotto certi aspetti condivisibile, perché il fatto di avere costretto i minori... Ecco, vabbè, tu parli già quando c'era la Vicentin, il ministro della Sanità, questo è Renzi che aveva ratificato questa vaccinazione pesante. Allora, dico una cosa sola, lui rappresenta il sud, adesso ti presento il nord della Sardegna. Ah, ci sta qua, ci sta la persona che arriva da Sasa. Ecco, ciao, ciao. Battiamo le mani, su! Grandi, grandi, così. Bene, bene, questo è lo spirito giusto. Noi ci siamo già visti la scorsa volta. Io faccio parte di un gruppo del Nord Sardegna. E niente, quindi siamo contentissimi, anche noi siamo come Stefano e il suo gruppo per la resistenza, quindi ci stiamo lavorando da tempo. Bene, bene, ecco, ma una cosa che chiedo al nord e al sud della Sardegna, Stefano e all'altro amico del nord della Sardegna. Carlo, adesso Sasa va via, ma come continuare nel ricordo di Sasa? Come perpetrare ancora quelle cose che avete condiviso oggi, che avete condiviso ieri e che condividerete anche domani? Vuoi saperlo? A Odia mi vogliono raggiungere di nuovo. E ti ho detto tutto. Adesso il 21 abbiamo una manifestazione unitaria in tutta Italia, saranno 100 città, ed è una manifestazione che parla appunto degli effetti avversi di questo vaccino. Il titolo è Sedotti e abbandonati. Queste persone sono state sedotte dalla scienza e quelle che stanno male sono state abbandonate. Dove si terrà questa riunione, Stefano? Allora, a Cagliari sicuramente e forse speriamo anche a Sassari. Bravi, grandi, così dovete fare. Ecco, vi anticipo ragazzi che la prossima settimana... Per quanto riguarda, io rispondo alla tua domanda, che cosa ci lascia Sasa? Intanto è stato veramente un piacere, un onore conoscerlo e ci lascia un grande messaggio che solo con Uniti riusciamo a vincere questa lotta, questa battaglia e costruire un mondo migliore. Quindi su questo ci stiamo impegnando, ci stiamo impegnati e credo che l'eredità che ci lasci e l'auspicio e lo spirito che ci lascia nel nostro cuore è proprio quello. Benissimo, benissimo. Quello di Stare Uniti e io ringrazio anche... ringraziamo voi per questa ulteriore possibilità e Maurizio del Barone a Nuoro. No, bene, questo Carlo Sasa e Stefano, il senso è proprio questo. Le cose devono essere... Maurizio, è stato un piaccio. Col canonato! Bene, bene. Con lo santo! Ricordiamoci, Sasa, la tua pagina Facebook, perché le persone che vogliono seguirti... La pagina di Facebook fottuto dallo Stato tutto attaccato. Ecco, perfetto. Così che chi vuole seguire le tue iniziative appoggiavi... Lo Stato forte che lo Stato ci ha fottuto! Lo Stato ci ha fottuto! Vividiamolo! Va bene, allora un caro saluto. Noi Sasa ci sentiamo fra una quindicina di giorni per un ulteriore aggiornamento. Ovviamente abbiamo deciso di tenerti sempre aggiornato sulle tue iniziative. Mi raccomando, non mollare e anche grazie a Carlo e a Stefano e al titolare del locale che vi ha ospitato perché il messaggio non deve finire con Sasa che va via dalla Sardegna. Dovete continuare a proseguire. Va bene, grazie, grazie Sasa, grazie al prossimo collegamento tra 15 giorni. Grazie a voi, veramente è stato un piacere. Bene, grazie ancora. Alla prossima. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao. Ecco, fra l'altro volevo ricordare che, visto che loro citavano questa... essendo tutti abbandonati, questa iniziativa, noi la prossima settimana avremo una testimonianza diretta di un ospite che verrà qui in trasmissione che ci racconterà le sue vicissitudini dopo il vaccino. Quindi sicuramente qualcuno dirà ma sì, ma le polemiche, eccetera. Questa è una trasmissione dove si fa informazione e anche quella è informazione, che poi sia un caso, un milione, non tocca a me giudicare le percentuali, però anche queste persone hanno il diritto di dire la loro e raccontare la loro esperienza. Ecco, Davide, quello che ha detto Stefano, mi pare, si chiamasse l'amico di Sasa, è quindi una consapevolezza e una coscienza abbastanza forte. Quindi tu e se abbiamo sempre parlato in trasmissione, anche in tempi non sospetti, infatti ti ho anche immaginato come una sorta di santone che prevede il futuro, non è questo, e che magari si è riuscito a interpretare già un anno fa, un anno e mezzo fa, certe dinamiche che poi si sono realizzate. Quindi i cittadini abbandonati, governati, diciamo, impauriti da una pandemia che in effetti è stata abbastanza cavalcata molto molto bene a livello europeo, che ci ha condizionato, ci sta condizionando, a cui, diciamo, per colpa della quale stiamo cedendo pezzi di sovranità, pezzi della nostra libertà in nome di un'Europa che finora, insomma, io almeno non credo, non me ne sono accorto, può darsi che sia distratto, grandi benefici non ne ha più ortati alla fine. Avete sentito che nell'intervento dell'amico della Sardegna c'è stato un riferimento alla quarta rivoluzione industriale, di cui parla Klaus Schwab in uno dei suoi ultimi libri, il terzultimo, perché il penultimo è Covid-19, il grande reset, il grande reset annunciato nel 2020, sempre nei lavori del World Economic Forum, per questo prima vi ho detto che la settimana prossima c'è la nuova sessione e io non ho la palla di vetro, non sono uno che prevede il futuro, sono solo uno che da 11 anni segue i lavori del World Economic Forum e quindi so sempre prima quello che succederà dopo nei vari stati. Il prossimo libro è La grande narrazione, è in uscita adesso, La grande narrazione, perché devono modificare completamente il percepito comune per imporre a suon di emergenze create mediaticamente, di paure costanti, una serie di riforme che vogliono cambiare completamente la nostra società. E allora la transizione energetica con la scusa della guerra, e la guerra c'è, però serve. La pandemia c'era, però serviva per introdurre meccanismi di controllo sociale. Allarme climatico per introdurre la green economy a tappe forzate. E emergenza, dopo emergenza, cancellazione della cultura, ideologia gender spinta, nuovi cibi addirittura a base di insetti, che ha qualcosa di satanico, perché il signore delle mosche è Belzebù. Belzebù, il signore delle mosche, questo voleva dire la parola Baalzebù in ebraico antico, e ci vogliono far mangiare mosche, e ci vogliono costringere a orari predefiniti, e ci vogliono imporre praticamente regole, regole, regole. Trenta all'ora a Milano. Ogni cosa è utilizzata per togliere libertà e imporre restrizioni. Noi dobbiamo prendere coscienza che quel bisogno di fraternità, di stare tutti insieme, non ha senso se non lo facciamo nell'unica maniera che ci unisce veramente tutti, le radici della nostra civiltà, che sono quelle cristiane. Dobbiamo riscoprire le radici cristiane, perché il potere sovranazionale dell'elite è radicalmente anticristico. E dal World Economic Forum, dalla Open Society Foundation, anche dall'elite che governano l'Unione Europea, la lotta è contro l'umano. Il transumanesimo e il postumanesimo vanno in quella direzione. Sembrano follie? Guardatevi i punti all'ordine del giorno della prossima sessione del World Economic Forum e vedrete che sto solo dicendo quello che è in programma la settimana prossima. Aggiungerei, Davide, basta guardare il tuo intervento di 14 mesi fa, 15 mesi fa in trasmissione da noi e ci si rende conto che quello che hai detto 15 mesi fa si sta realizzando. Bene, allora ricordiamo 351-084-5188 se volete mandare un messaggio a Whatsapp oppure se volete chiamare 0425-1666-66105. Adesso un piccolo stacchetto pubblicitario e poi torniamo in diretta sono le 21.44 qui dagli studi di Rovigo di Prima Free. Sì, sì, c'è tutto il tempo, guarda, non ti preoccupare adesso... Sì, sì, c'è tutto il tempo, e poi troviamo Grazie a tutti. 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 delle Virostar a pagamento ad andare a pubblicizzare questi miracolosi effetti di queste sostanze geniche sperimentali che non ci sono stati, perché abbiamo visto che non solo queste sostanze geniche non hanno immunizzato nessuno, ma anzi chi si è inoculato 1, 2, 3, 4 dosi si è ammalato, purtroppo molti di questi sono morti e la dimostrazione che quanto ci veniva propinato attraverso i mainstream, quindi il pensiero dominante, secondo il quale questi vaccini erano l'unica barriera per salvare da morte certa tutte le persone, si è dimostrata falsa. Io non ho mai criticato coloro che hanno deciso di ascoltare non tanto le Virostar, ma di ascoltare l'industria che ci garantiva salvezza eterna dal Covid. Io semplicemente ho detto che chi ritiene di sentirsi più sicuro inoculando queste sostanze lo faccia, ma sono sempre stato contrario a una narrazione menzoniera che è stata fatta secondo la quale queste sostanze geniche sperimentali erano l'unico strumento per salvarci da morte certa. Prova ne sia che io ho mandato a tutti i parlamentari nazionali europei un documento che è stato sottoscritto da più di mille medici italiani, un documento che dimostra con dati alla mano la falsità della narrazione che si sta propinata. Medici che hanno curato le persone che sono ammalate di Covid, io sono una di queste, io sono vaccinato contro tutto, l'ho detto, non sono un Novax, ma dopo essermi informato a livello internazionale sull'efficacia di queste sostanze geniche sperimentali e sulla pericolosità, adesso il Presidente del Consiglio Giorgio Ameloni ha pubblicamente annunciato che ci sarà una commissione d'inchiesta che andrà a verificare le modalità con le quali sono state affrontate le emergenze sanitarie in questi due anni e il modo criminale con il quale sono state lasciate morire tante persone che potevano essere curate, De Donno è una dimostrazione lampante, ma migliaia di medici hanno dimostrato che anziché abbandonarsi alla narrazione e al protocollo ministeriale che prevedeva per coloro che si ammalavano, la vigile attesa e l'attacchipirina, scelta criminale, che ha portato le persone ad ammalarsi in modo severo e poi arrivare a essere ricoverati in ospedale in condizioni disastrose ormai da non potersi salvare. Allora, questi sono i dati reali, oltre al fatto, i dati reali ci portano a dimostrare, sentirete tutti i giorni oramai notizie sui telegiornali o pubblicate sui vari mezzi di informazione di persone, giovani, atleti, che dopo essersi inoculati queste sostanze geniche sperimentali muoiono improvvisamente di infarto oppure sono affetti da miocarditi oppure emorragie cerebrali, oltre ai danni ancora non noti causati da queste sostanze geniche sperimentali. Ritengo altrettanto criminale che con la scusa che dobbiamo vaccinare i bambini per proteggere i nonni, criminale, sapendo che i bambini non possono arrivare ad ammalarsi in modo severo perché hanno gli anticorpi che li proteggono, eppure sapendo che i bambini non potevano ammalarsi in modo grave, li hanno costretti subdolamente, vigliacamente, criminalmente, li hanno costretti a vaccinarsi con la scusa che dovevano proteggere i nonni che avevano già tre o quattro dosi. Questo è stato un atteggiamento criminale che io ho denunciato in tantissime occasioni e che continuo a denunciare a livello internazionale per fare in modo che venga fatta chiarezza. Allora, io ho sempre detto che l'emergenza sanitaria doveva essere affrontata con razionalità, non abbandonandoci alle isterie, ma adesso è il momento della verità. Le persone, tutte, sia quelle vaccinate che non vaccinate, oppure non inoculate, come sostengo io, hanno il diritto di sapere la verità e hanno il diritto di sapere perché sono state inoculate queste sostanze senza un'adeguata sperimentazione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice, scrive, che un vaccino, prima di essere diffuso, di essere utilizzato su larga scala, deve essere sperimentato per un periodo minimo che va dai 5 agli 8 anni. In quattro mesi hanno messo in commercio queste sostanze, le hanno inoculate a forza, utilizzando anche vigliacamente il ricatto, oltre che della privazione delle libertà individuali, il ricatto di impedire alle persone di andare a lavorare se non cedevano al ricatto vaccinale e di poter sostenere se stessi, garantendo a se stessi e a loro famiglia di resistenza dignitosa. Questa è stata un'azione vigliacca, criminale, della quale, spero, ogni responsabile sia chiamato a rispondere sia nei confronti delle opinioni pubbliche, ma nei confronti della giustizia. Perché chiediamo giustizia, verità e giustizia, che ci è stata negata in questi due anni di gestione criminale dell'emergenza sanitaria. Non avrebbe dato la domanda che volevo fare all'inizio, rimane perché è stato... Cioè lei ha messo in evidenza delle cose che più o meno ormai sono evidenti, quindi tutti ci siamo resi conti. Datti oggettivi. Datti oggettivi ci siamo resi conto di essere stati presi. Però perché è stato fatto? Datti oggettivi. Perché è stato fatto? Milanato che scende da Marte, Milanato che probabilmente... Prendi il Milanato che gli è stato... Facciamo la commissione di testa sulle cazzate. No, 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 perché non è cazzate, guardate, scordate, va bene, Milanato, tu che scendi da Marte, tu che scendi da Marte, stai dicendo tutte le cazzate. No, 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 ma se le sa bene, le varianti sono proprio, ti dicono, ce lo diceva anche Montagné, le varianti sono provocate proprio da queste sostanze geniche sperimentali. Non capivo un cazzo. Le va proprio, tu che vieni dai somborghi della provincia di Padova, vuoi insegnare a una... Ecco, perfetto, perfetto, ecco, benissimo. Vabbè, non trascendiamo. Ognuno dimostra l'educazione che ha. Montagné, uno dei massimi luminari a livello mondiale, verrà a imparare da te che probabilmente non sai neppure dei abiti di casa. Perché è finita il forno crematorio. Loro non possono parlare di quelli che avrebbero fatto lo vaccino. Quelli non possono, giusto, fai bene a fare riferimento. Non possono parlare. Quelle autopsia. Hanno impedito bruttamente... Cosa sono morti. Ah, quindi è stato giusto che le persone morte siano state bruciate. È così evidente. All'insaputa dei loro parenti, dei loro familiari, è così evidente. Siano state bruciate senza neppure dare la possibilità di capire quali hanno le veri casi rinnovanti. Cina, qualcuno è in Cina. Però Marco... Dai sopporti del Dito, Marco, mi auguro che tu possa aprirgli occhi. Adesso, Marco, scusate, però, facciamo lo spreco. Sei uno degli ipnotizzati. A buttare via i soldi per dire... Anche uno degli ipnotizzati. Ipnotizzati. Se mi danno da mandaggiare quella sostanza organica che sembra cioccolata o un altro cuore, tu la mangi e dici che buona che è. Buttiamo il successo in piacere. Da persona ipnotizzata. Da persona ipnotizzata quando sei. Scusi, onorevole, però Marco, diciamo la verità, che comunque io spero che qualcuno a casa abbia capito, perché purtroppo quando c'è sovrapposizione non sempre si riesce a capire da casa. Ricordiamocelo questo. Però, ecco, tu dici che tua zia, insomma, questo parente è morto perché non si è potuta vaccinare e non c'era vaccino. Però c'è anche gente che è morta con il vaccino e anche quella non può parlare. Perché anche quella avrebbe voluto dire porca miseria, mi hai fatto il vaccino e sono morto lo stesso. Però io in trasmissione, ti invito a vederla, mercoledì prossimo invece farò venire una persona che del vaccino è rimasta vittima. E invece quelli, quegli altri, non possono venire. Non possono venire, perché sono finiti il forno crematorio. Ma anche quelli che sono stati vaccinati sono morti. Vuoi vedere quanti sono? Tantissimi sono. Hanno mandato il forno crematorio quelli che hanno il governo con te, con i sinistri. Quelli li hanno mandati nel forno crematorio. Ma che forno crematorio? Proprio perché avevano paura che scoprissimo la verità. Un governo 5 stelle che ha dormito quando si è spassa la famiglia. C'eravate voi col governo 5 stelle? No, no, c'era il governo col figlio. C'eravate voi dal forza mila. Allora, allora. Voi di forza mila eravate al governo con i 5 stelle. Se continuate di questo passo, noi non ci siamo stati. Fate una finanziaria il prossimo anno uguale a questa, se continuate così. Tipo quella che avete fatto voi l'anno scorso. 100 volte meglio di questa. Ah, va, perfetto. Quindi ripiagendo il vecchio governo con i 5 stelle e con i sinistri. Di sicuro avevamo la benzina a gasolio a 1,60 euro. Ah, bene. Si stava meglio, si stava peggio. Allora, le prossime elezioni ti presenterai con quelli del PD in un nuovo momento. No, non mi presento a quelli del PD. Non ho bisogno. Chi siete da voi uguali al PD. Governate allo stesso modo. Le tue scelte sono ininfluenti. Guarda che sei anche tu il governo adesso. Siete lì succubi della mondataia. La tua forza politica. Nella guerra in Ucraina non si tratta un attimo con Putin. La tua forza politica. Non cercate una pace, non cercate nulla. La tua forza politica è quella che ha governato finora con i PD e con i 5 stelle. No, abbiamo salvato l'Italia, che è ben diverso. Per forza, infatti, gli italiani ve lo riconoscono. Però devo dire che gli italiani ve lo riconoscono. Gli italiani vi riconoscono da aver salvato l'Italia. State copiando Draghi alla grande. Gli italiani vi riconoscono il grande merito che avete avuto nel passato governo. Forse anche te. Ve lo hanno riconosciuto con il voto. Forse anche te. Però, ecco, rigiamo... Scusate, anche voi. Scusate, scusate. Siamo anche voi del 40. Vi aspettiamo. Anche voi del 40. Da 40 balle. Come faremo? Seguite la rosulina voi. Vedrete che fine farete. Scusate, un attimo solo che vi leggo questo post di una persona che è venuta in trasmissione e che è molto interessante. Allora, la manovra. Ha rimesso il posto com'era. Ha ridato 500 euro a tutti i 18 anni. Anzi, per alcuni sono arrivati i 1000 euro. Il contante è a 5000, ma in Europa 10.000. Giorgetti si è fatto scrivere alla legge di bilancio da Draghi. Nordeo stava smontando i magistrati. Si fa il ponte sullo stretto. Si riduce il reddito di cittadinanza. Lo spirito funziona, ma rimane. Ha limpezzato lo sconto sulla Cisia. Ma, vabbè, sta scendendo un po' il gasolio. Ma questo è un posto di metà dicembre. Quindi ha portato a casa il tetto sul prezzo del gas. Si ha mantenuto gli impegni con l'Ucraina. E questa persona è una persona di sinistra. Cioè, quindi, questa è una persona di sinistra che fa il commento alla manovra di governo della Meloni. Quindi io sono anche preoccupato di questa cosa qua, Davide. Cioè, alla fine... Mi ha accontentato qua. Mi ha dato bene qua. Mi ha dato bene qua. Questo è... Uso... Sembra il mio governo. Parole sue. Poi lo ringrazierò di questo posto che mi ha ispirato. E quindi, alla fine, c'è qualcosa che non va. Cioè, io ho votato la... Io, nel senso, io cittadino, per ipotesi, ho votato la Meloni nella speranza di cambiare l'atteggiamento, di vedere... Io vi ricordo la Meloni che parlava di patriottismo, i patrioti italiani. Però dove sono, cara Presidente del Consiglio, i patrioti italiani? L'atteggiamento deferente nei confronti di Lavanderleyer? Davide Lovat. L'ho detto anche nel primo intervento. Ormai, il vero potere è al di là dei confini. Dei confini nazionali. Dei confini dello Stato della Repubblica Italiana. Il fatto che la Repubblica Italiana sia fortemente indebitata la pone nella condizione in cui stanno i debitori. Oltre a questo, ci sono dei trattati internazionali che il popolo sovrano, senza essere informato a sufficienza per poter esercitare consapevolmente la sovranità, dei trattati che la gente non conosce. In verità, il Trattato di Lisbona devolve all'Unione Europea una serie di competenze notevoli. La libertà di manovra che ha il Parlamento italiano nel legiferare o il governo nel promuovere l'azione legislativa e quella esecutiva, è un margine estremamente stretto per cui votare destra o sinistra cambia poco. Teoricamente potrebbe cambiare un voto veramente antisistema, ma veramente, non per finta, non gli antisistema costruiti apposta per chiamarsi antisistema. E antisistema vuol dire andare letteralmente contro al potere finanziario globale. Solo che noi abbiamo anche la longa manus armata degli americani in casa. Alla fine che comandano qui sono gli americani. Vedete che se loro vogliono far guerra, ci usano per far guerra. E dobbiamo dire signor sì. Per cui la situazione è veramente molto difficile. E bisogna prendere coscienza del fatto che i partiti sono diventati dei cavalli di Troia, dei potenti, per mettere dentro al recinto le pecore che siamo noi. una o l'altra ti fanno credere che sono uno contro l'altro. Ma alla fine gli uomini sono selezionati dall'alto e sono posti nei luoghi di potere favorendo le carriere. Il World Economic Forum, lo dico ancora, ha il programma Young Global Leaders. Lo sapete che in questo momento in Europa abbiamo il premier del Belgio, The Crow, il premier della Gran Bretagna, Sunak, il premier della Finlandia, Sanna Marin, il premier della Moldavia, Maya Sandu, il premier dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, il presidente della Francia, Emmanuel Macron. Avevamo cursi l'ex premier dell'Austria. Sono tutti prodotti del programma Young Global Leaders, The World Economic Forum. Sono persone che rispondono a un potere che non è quello del popolo, ma è un potere sovranazionale. Dobbiamo capirlo, perché finché non si capisce continueremo a non capire niente. Dottoressa Braschia, rivediamo assieme questo posto che mi ha molto ispirato. Questa persona di sinistra, naturalmente di sinistra, dice che il post è tornato così com'era. Quindi alla fine si parlava, si ricorda, togliamo il tetto, 60, poi un paio di telefonate delle persone giuste alle ammeloni evidentemente l'hanno fatta soprassedere. Prima 30 euro, perché qua funziona così, si spara alto, poi qualcuno chiama, hai sbagliato in porto, 30 euro, poi vabbè, eliminato. I 500 euro di ciottenni sono diventati 1000, quindi questa è una manovra che storicamente è il cavallo di battaglia del PD. Contanti a 5000, in Europa c'è... Contanti a 10.000 euro in Europa, noi invece 5000 siamo la più grande delle battaglie. Il ponte sullo stretto si fa, il reddito cittadinanza si riduce, lo speed funziona, aumenta le spese delle sigarette, il tetto del gas, però poi alla fine le bollette sono rimaste sempre le stesse. Quindi non è una manovra incisiva che fa risollevare l'economia o che ristruttura, sburocratizza tante cose che in Italia non vanno. Ad esempio oggi abbiamo, faccio l'esempio dell'ottoressa Bras, che abbiamo ricevuto una segnalazione in redazione di un'azienda che è da 45 giorni che aspetta l'allacciamento dell'energia elettrica perché c'è la burocrazia e devono cambiare il contatore fra smart working e malattie, chi lo sa, 45 giorni che l'azienda è ferma. Quindi ecco, queste cose non vengono dette alla fine, cioè parliamo del, abbiamo dato un euro qua, però alla fine problemi veri dell'Italia non vengono risolti. Dottoressa Brasca. Ma io non sono molto d'accordo con quello che scrive questo signore. Cioè, fermo restando che la legge di stabilità è una legge che deve amministrare una quantità di soldi e una quantità di bisogni e in due mesi, perché obiettivamente si tratta di due mesi, non è che si poteva rovesciare totalmente l'indirizzo. Però alcuni segnali, secondo me, per quanto, ripeto, anche prima io ho criticato alcune cose, li hanno dati. Per esempio, nella manovra c'è la flat tax e soprattutto c'è l'incremento dei forfettari fino a 85 mila euro. Beh, questo è un segnale. Nella precedente manovra era previsto un, cioè, era già stato previsto la possibilità di innalzare a 100 mila e invece l'hanno tolta. Cioè, questo è un orientamento profondamente differente. Non solo. Nella manovra hanno previsto l'introduzione di una flat tax incrementale. Cioè, tu puoi scegliere sia di rimanere come forfettario fino a 85 mila, ma puoi scegliere anche di pagare solo il 15% sull'incremento di reddito. Questo, per quanto poco, è un segnale che tutto sommato è indicativo. Cioè, voglio dire, capisco il discorso del post e sono d'accordo con il suo, diciamo così, con la sua delusione perché era una cosa obiettivamente anche dovuta tutto sommato perché in realtà il post noi abbiamo questa, diciamo così, questa fobia della moneta elettronica ma in realtà lo facciamo pagare al al commerciante anziché il, diciamo, la nostra voglia di moneta elettronica. Però, obiettivamente, credo che se una battaglia doveva essere fatta ed è evidente che doveva essere fatta perché era fatta nell'ambito della scelta, come vede anche all'interno della maggioranza gli animi o comunque le sensazioni, insomma, possono essere diversi come è normale che sia, no? Cioè, è un insieme di partiti eterogenei quindi ognuno con una volontà differente. Dicevo, se una battaglia deve essere fatta forse è giusto che venga fatta su degli importi o comunque su degli indirizzi forse più significativi che non il discorso del POS. Fermo restando che mi auguro che il discorso del POS venga ripristinato o comunque venga ripreso in seguito. Ecco, poi, ecco, su questo Marco, tu come commenti Forza Italia è un partito che dovrebbe essere vicino agli imprenditori, questo siparietto sul POS mettiamo a 60 euro il tetto di esenzione poi lo facciamo scendere a 30 poi lo eliminiamo completamente. È stata una retromarcia voluta dall'Europa e che la Meloni si è adeguata a quello che gli è stato chiesto dall'Europa e questo è uno degli aspetti che quest'anno dovremo cercare di migliorare perché è troppo anche sulla politica estera. Sì, tetto al gas a 100 adesso siamo a 65 di quotazione non è un grande successo bisogna cambiare completamente la politica estera europea bisogna cercare di trovare una pace tra Putin e Zelensky e la von der Leyen l'Europa e mi sembra anche l'America non ci sentono da questo punto di vista noi abbiamo bisogno del gas russo perché il gas russo è la vera soluzione per l'economia italiana non esistono altri gas a basso costo come quello quindi dobbiamo arrivare a chiudere questa guerra qui io avrei anche evitato armi di difesa sì ma mandare armi e alimentare ancora questa guerra ricordiamo a Marco che è stato approvato oggi il decreto per rinnovare fino al 31 dicembre la consegna di armi all'Ucraina adesso passa la camera esatto e non la trovo un'iniziativa positiva perché va a continuare una guerra che in qualche modo deve essere raffreddata e deve essere chiusa e ci vuole un'attività di diplomazia che non vedo in Europa e la Meloni si sta adeguando troppo a Zelensky troppo alla Wunderlaie e stanno secondo me bisogna cambiare un po' di linea politica Marco sentiamo questo vediamo questo post questo messaggio whatsapp di Francesco da Berlisi grazie per essersi citato Francesco da tanti anni si parla di togliere gli enti inutili ecco quindi questo è un aspetto che abbiamo affrontato in trasmissione svariate volte e documenti da sburocratizzare invece si parla tanto ma nei fatti è rimasto tutto uguale solo questo sarebbe un guadagno per tutti però noi dobbiamo ecco quindi le tasse aumentano io ho sentito persone che hanno tentato di eliminare questi enti inutili non ci sono riusciti ma ci hanno messo un impegno enorme a Roma non ci sono riusciti sono enti lei su questo aspetto siccome la sburocratizzazione è un cavallo di battaglia di Fratelli d'Italia mi pare guardate allora chiariamo un aspetto ho ribadito prima che questo governo si è insediato a tempi di record e ha dovuto in pochissime settimane mettere a punto una manovra finanziaria prima di tutto per tenere i conti in ordine perché non dimentichiamoci il fatto che se noi non teniamo i conti in ordine molto difficilmente riusciremo a avere i soldi del PNRR cioè i soldi da parte d'Europa questo ce l'hanno detto in modo molto chiaro anche ricattatorio per molti aspetti prima tenere i conti in ordine secondo riuscire a dare i primi segnali di cambiamento il vero bilancio di questo governo verrà fatto l'anno prossimo entro quest'anno cioè la fine di quest'anno con la prossima finanziaria vedremo se questo governo se questa maggioranza della quale fa parte non solo Giorgia Meloni come il nostro amico della provincia di Marte diceva ma tutta la coalizione di centro-destra fa parte di questo governo e il vice ministro il vice presidente del consiglio dei propri italiani che per quanto riguarda la questione degli armamenti dell'Ucraina nel passato governo voglio ricordare che aveva preso delle posizioni molto nette quindi inutile che diciamo adesso che è colpa personalmente io non condivido la scelta di mandare armi in Ucraina non condivido il fatto che l'Europa debba continuare a fare il cane da guardia degli Stati Uniti o di altre nazioni ritengo indispensabile che l'Europa faccia i propri interessi e gli interessi dell'Europa non consistono nel fare il gioco degli americani che vogliono continuare a portare avanti la guerra nel cuore dell'Europa ma gli interessi degli europei non sono collimanti con quelli degli americani non sempre ciò significa che gli europei devono cercare la pace perché è interesse dell'Europa cercare la pace perché questo ci garantisce l'approvvigionamento energetico questo ci impedisce di continuare a vedere decine di migliaia di persone spesso civili inermi che vengono massacrati ma non massacrati solo dall'anno scorso cioè da quando la Russia ha deciso di invadere l'Ucraina ma civili massacrati già dal 2014 quando nel Donbass dal 2014 all'anno scorso circa 16.000 persone a gran parte di queste donne e bambini sono state massacrate per effetto delle incursioni delle milizie ucraine tutto questo è passato nella indifferenza della comunità internazionale quasi come se le famiglie le donne i bambini delle Donbass la loro vita valesse meno rispetto a quelli dell'Ucraina occidentale questo non è quindi siccome è interesse dell'Europa a trovare la pace l'Europa deve imporre la pace deve obbligare Stati Uniti Russia Cina a sedere attorno a un tavolo e trovare una mediazione dobbiamo dare voce non alle armi che andiamo a mandare e non sappiamo a chi vanno poi queste armi in Ucraina ma dobbiamo dare voce alla diplomazia l'unico modo per trovare la pace e ridare stabilità al centro dell'Europa questo è un dovere dell'Europa è incomprensibile che sia la Turchia a porsi come mediatrice nel conflitto ucraino è una cosa inaccettabile deve essere l'Europa ad imporre la pace perché è interesse dell'Europa cercare la pace e non continuare a essere la ruota di scorta o il cane da guardia degli Stati Uniti o di altre nazioni a livello internazionale questo è quello che dobbiamo fare quindi ora su questo ritengo sia indispensabile adesso che si agisca in quella direzione bisogna far tacere le armi e per far finire la guerra bisogna capire le ragioni che hanno portato a questa guerra e l'unico modo è quindi allora che uno ritenga di avere più torto più ragione bisogna dare spazio alla diplomazia che consenta di far prevalere il buon senso gli interessi europei e quindi di arrivare alla pace non c'è altra via perché altrimenti il conflitto continuerà a durare a lungo e guardate che a morire sono le persone in Ucraina non sono gli americani che combattono una guerra attraverso la Nato che vuole continuare a spostarsi ad est fino alle porte di Mosca allora bisogna capire le ragioni che hanno portato alla guerra non giustificarle capirle perché la diplomazia serve a questo capire le ragioni che hanno portato al conflitto e trovare una mediazione attraverso la diplomazia che porti quanto prima possibile alla pace questo è l'obiettivo che dobbiamo cogliere nel più breve tempo possibile la prima volta che sono d'accordo con l'onorevole l'hai detto tutte le regue hanno le loro eccezioni l'hai detto l'hai detto Davide in effetti ricordiamo che l'Ucraina oggi è stato approvato diciamo il decreto che dice il decreto mi pare che proroga fino al 31 dicembre la consegna delle armi all'Ucraina questo ricordiamocelo è una cosa che riguardava anche il governo precedente quindi continuità con il governo Draghi anche in questo caso ricordiamo però che l'Ucraina alla fine non è né nella Nato né nell'Unione Europea quindi stiamo parlando comunque di una nazione che non giustificherebbe sotto certi aspetti tutto questo impegno di consegnare le armi anche oggi leggevo che c'è anche il pericolo della Nato di vedere sguarnito anche il livello minimo di armamenti perché stanno consegnando alla Ucraina tutte le nazioni stanno consegnando tutte le loro armi anche più potenti all'Ucraina quindi sta creando anche un disagio all'interno della Nato sintetizzo perché vedo che manca poco tempo l'Ucraina purtroppo è usata come vittima sacrificale è il territorio scelto dagli americani come terreno di scontro contro la Russia è una cosa lungamente programmata e se sono d'accordo completamente con il ragionamento esposto dall'onorevole Berlato poco fa c'è però un problema di fondo che io devo rilevare che gli uomini che devono poi agire che sono persone in carne ed ossa molto spesso rispondono a logiche diverse perché sono in quella posizione perché qualcuno ce li ha messi siccome stasera per coincidenza ho continuato a parlare del World Economic Forum sappiate che il primo punto all'ordine del giorno della sessione della settimana prossima è come proseguire la guerra in Ucraina proseguire certo come proseguire la guerra molto chiaro quindi bisogna che ci sentiamo Davide verso metà febbraio giusto per fare qualche commento su questo sul congresso ecco dottoressa è tutto pubblico sul sito ufficiale del World Economic Forum non sono io che me li invito andate leggete assolutamente mi accogliamo con l'invito di Davide Lovat dottoressa Baschi siamo in chiusura manca poco una cosa che avrebbe volentieri visto nella manovra di bilancio e che magari non c'è ma che si sarebbe aspettato e avrebbe voluto per gli imprenditori e per i cittadini italiani dunque avrebbe voluto un intervento sul DURC per il DURC è il documento unico di regolarità contributiva che di fatto blocca in alcuni casi il pagamento delle imprese attualmente dura quattro mesi avrei voluto un intervento in questo senso quindi o un prolungamento o una velocizzazione nell'ottenimento del DURC ecco benissimo sono d'accordo con lei ma no non è vero sostanzialmente va beh c'è le regole c'è il loggione dietro le telecamere che rumoreggia Marco Minato rumoreggia rumoreggia perché noi abbiamo anche il pubblico dietro le telecamere onorevole allora l'avrei parlato siamo in chiusura lascio a lei la chiusura un auspicio per questo per questo governo dove ovviamente non siede da soli come Fratelli d'Italia ma c'è anche Forza Italia che va detto e anche Lega che prima erano con i voi prima eravate col PD Minato quindi non è che l'ho scelto io non siete che mi guardi così eravate con il PD eravate con il Movimento 5 Stelle occorre ribadirlo quindi l'auspicio di tutti che ci sia un'inversione di marcia che le cose possono cambiare che la politica si era vicini finalmente parole magari buttate al vento non lo so a capire le esigenze dei cittadini piuttosto che invece le manovre di palazzo l'Unione Europea la Van der Leyen che viene a salutare non so la Meloni Meloni che si chiama Mattarella dopo il discorso del del 31 del 31 ringrazio per l'appoggio ci sono delle cose che i cittadini devono affrontare la vita quotidiana il caro bollette le spese i tassi di interesse alti i mutui la spesa è sempre più cara vogliamo magari dare una speranza agli italiani che le cose possano migliorare veramente non soltanto sulla carta 486 pagine della manovra di bilancio noi l'auspicio più grande che esplicitiamo è quello che permettono a Giorgio e Meloni di governare semplicemente questo è che non ci siano delle forze a lei avversa che le vogliono impedire di cambiare l'Italia così come ci siamo impegnati a fare semplicemente in questi termini sia all'interno dei confini della nostra bella patria che dall'esterno quindi e da forze che sono state richiamate prima da una persona che è intellettualmente onesta come Davide Lovat che io ammiro e che rispetto pur avendo posizioni politiche molto distanti ma io le persone per bene le persone oneste le persone in buona fede io le rispetto e quindi do merito a Davide di combattere una battaglia senza avere alcun tipo di mira politica perché altrimenti avevo fatto altre scelte se cercavo una sedia avevo cercato dell'altra e quindi ammiro la sua onestà intellettuale richiamando lui il pericolo di vedere delle forze sovranazionali che vogliono impedire a Giorgia Meloni di poter attuare quel cambiamento che ci siamo impegnati ad attuare in sintonia con le altre forze di governo perché voglio ricordare noi abbiamo assunto una posizione coerente abbiamo sempre detto anche se era conveniente anche per noi vuole che a noi non siano stati offerti strapuntini oppure posizioni di potere nel passato governo se ci fossimo accordati al governo di unità o di salvezza nazionale noi abbiamo sempre detto che non andremo mai a governare né con il PD e neppure con i 5 Stelle e abbiamo coerentemente assunto questa posizione e l'abbiamo mantenuta non critichiamo le scelte che sono state fatte dai nostri attuali alleati però adesso sono alleati con noi non sono ancora alleati con Draghi o con il PD io con i 5 Stelle non è più così quindi ci auguriamo che Giorgio Amelio sia una messa nelle condizioni di dimostrare quello che vale di dimostrare la sua coerenza e di poter veramente cambiare in senso positivo il nostro paese perché vogliamo essere orgogliosi di essere italiani sia quando siamo sul suolo nazionale che quando siamo in giro per il mondo vogliamo dimostrare il nostro orgoglio di essere italiani ecco bene su questo ci siamo d'accordo ecco le dico già onorevole che noi nel nostro piccolo nella nostra trasmissione vigileremo su questo perché ovviamente il nostro dovere e facoltà di fare informazioni ci permette anche di assumere questi atteggiamenti di vigili mi passo il termine di vigili volevo dire vigili d'attesa mi sembrava una parola troppo di eccessiva di vigilanza verificheremo se la Meloni finora io personalmente non sono molto contento però mi servo di migliorare la mia valutazione ne parleremo tra un anno ne parleremo ma già fra un mese io voglio vedere cambiamenti costanti ah certo ma tra un anno faremo il primo bilancio faremo il primo bilancio ringrazio Marco Milanato a cui 30 secondi ricordo a tutti che è senato governo Meloni e grazie a Silvio Berlusconi e Salvini che hanno fatto cadere Draghi primo punto secondo punto noi non faremo come fini saremo sempre degli alleati leali anche se questa manovra non ci piace molto va bene ringrazio allora Marco Milanato Forza Italia Cittadella ribadisco quello che ha detto anche l'onorevole Berlato ricordatevi che non siete più col PD e con 5 Stelle ma siete con lo stesso con fratelli d'Italia con fratelli d'Italia e Lega ricordatevelo che casomai qualche cosa vi dovesse sfuggire ricordate che non saremo come fini ecco va bene ci tengo a dirlo perché è giusto per dovere l'informazione ringraziamo l'onorevole Sergio Berlato europarlamentare CR fratelli d'Italia poi ringraziamo anche la dottoressa Braschi Elisabetta Braschi che la ringrazio di essere venuta da Firenze apposta non in trasmissione per parlare di manovra gli aspetti tecnici molte cose si possono migliorare quindi siccome la nostra trasmissione vuole andare in profondità la dottoressa mi toccherà rivitala per capire ancora se qualcosa deve migliorare o può migliorare ancora ovviamente con Davide Lovat bisogna che ci vediamo a metà febbraio per fare il punto sul World Forum economic forum economic forum di Davos Davos perché vediamo quello che succede perché ovviamente avrò bisogno di te Davide per capire un po' di più e far capire i nostri amici a casa quali sono le intenzioni di questi signori considerando che poi te ci azzecchi sempre quindi come è già successo per chiudere con una battuta che fa ridere un po' tutti i nostri telespettatori lì si riunisce il gota della finanza e arriva perfino Larry Fink di BlackRock oltre i vari Gates, Soros eccetera qui in Veneto diciamo per scherzare senza fare i costituzionalisti articolo quinto chi che gai schega ha vinto penso si capisca in tutta Italia purtroppo il decadimento dei valori ha fatto sì che la politica si decida da quei prezzi sono troppe persone in vendita purtroppo sì il denaro ha preso il sopravento sui valori bene grazie io vi saluto tutti vi abbraccio ringraziamo anche Sassà che salvatore gigante Sassà è il fottuto dallo Stato l'imprenditore che sta girando l'Italia per sensibilizzare le sofferenze degli imprenditori che sono vessati dalle tasse e dalle spese folle sono stati costretti a chiudere le proprie attività io vi aspetto a ovviamente mercoledì prossimo alle 21 ricordate insieme idee e persone c'è un caro saluto grazie non c'è un po' la macchinazione non c'è un po' la macchinazione grazie grazie